E ritorniamo in studio. Dal Comune fanno sapere che dopo il successo della giornata del 24 novembre si ripeterà domani l'appuntamento con Este Baratto, l'iniziativa promossa e organizzata dall'amministrazione comunale insieme al collettivo designer a costo zero dalla Facoltà di Architettura, l'Associazione Amos, Malati Oncologici Sardegna. Il mercato dello scambio si intera ancora in piazza dei mercati dove per tutta la giornata sarà possibile scambiare oggetti, prodotti artigianali, servizi e generi alimentari. Il programma prevede alle 9.30 la registrazione dei partecipanti e l'allestimento, alle 11 l'inizio delle attività con pausa picnic per le 13 e alle 18 la chiusura. Este Baratto riserva uno spazio ai più piccoli che potranno barattare fumetti, videogiochi, figurine e giocattoli. Il mercato senza danaro è stato suddiviso per categorie nuovo e usato in cui si possono scambiare vestiti, giocattoli, oggetti per la casa, prodotti artigianali di propria produzione, alimentari e scambi di servizi come soggiorni in bed and breakfast, servizi di sartoria, idraulica e giardinaggio. L'obiettivo, spiega l'assessore all'ecologia Chiara Rosnati, è infatti di allargare questa esperienza a tutti i paesi sardi disposti ad ospitare Este Baratto, facendo sì che queste giornate diventino un appuntamento ricorrente e itinerante per incontrarsi e scambiarsi oggetti. Il Lions Club di Alghero nel pomeriggio del 14 dicembre, cioè di oggi alle 15.45 presso il reparto di Otorino Laringoiatria dell'ospedale Civere di Alghero, donerà una lampada frontale, strumento indispensabile nella diagnostica otorino-laringoiatrica. La donazione rientra tra i service dello scorso anno sociale, 2011-2012, con la presidenza di Tiziana Secchi. Presideranno l'incontro l'attuale presidente Vittorio Romerio, il direttore della divisione di Otorino Laringoiatria dell'ospedale Civile Cittadino e il dottor Sebastiano Carboni. E prenderà il via domani la prima edizione di La Classica senza giacca, rassegna concertistica ideata dal maestro Mauro Uselli. E sarà proprio lui ad aprirla domani, sabato 15 dicembre, presso la Torre di San Giovanni alle 19.30. Promuovere la musica in veste innovativa, questo lo scopo dell'iniziativa che prevede tutta una serie di concerti nel periodo natalizio. Sono quattro quelli previsti. Come detto inaugura la rassegna il maestro Uselli, che domani alle 19.30 proporrà un'esibizione di flauto e piano. Il 22 dicembre spazia Fabrizio Zara con la sua chitarra classica. Il 29 dicembre poi Francesco Penduzzo al piano e chiuderà la rassegna il concerto finale che vedrà il maestro Mauro Uselli insieme a Fabrizio Zara il 5 di gennaio. E ritorna con una delle previste tappe invernali, il versatile manifestazione di arte e musica elettronica che trova il suo apice nel mese di luglio ad Alghero. Domani, sabato 15 di dicembre, il doppio appuntamento al Miramare Music Pub e alla discoteca Blue Star di Ossi Sassari con il DJ e produttore di Londra Chromatic Filters. Saranno presentato in anteprima il lavoro videocreato con mouse artigrafiche. Dopo il weekend estivo giunto alla seconda edizione, il versatile ritorna con la prima tappa di avvicinamento a quella che sarà la terza edizione, fissata come sempre nel mese di luglio. Appuntamenti che a cadenza fissa si ripetono da Alghero a Cagliari, passando per altri centri come Sassari, al fine di tenere alta l'attenzione in Sardegna verso un marchio e ciò che rappresenta, che oramai è conosciuto sia nell'isola che anche in Italia e oltre. Sabato 15 dicembre prenderà forma la prima preview invernale del Versatile, in avvicinamento all'evento estivo. Ospite della serata Chromatic Filters, progetto nato da due DJ italiani, Luca Sanna e Pierpaolo Secchi. E proprio pochi giorni fa, il 10 dicembre del 2012, è uscito il nuovo EPI in vinile del duo, pubblicato sempre dalla mitica etichetta inglese Rebert, dal titolo Distant Roots, che sarà presentato proprio in anteprima sabato. Si inizia dalle 22 al Miramare Music Pub di Alghero, in via Gramsci, per poi continuare nella nota discoteca di Ossi Sassari Blue Star, nello spazio Deep Space, insieme al DJ sassarese Beppe Spanu. Dunque un doppio appuntamento che comprende anche i due maggiori centri del territorio, ciò a significare la volontà di diffondere anche il progetto artistico del Versatile, che nell'arco di due anni è già divenuto punto di riferimento della scena delle arti e musiche elettroniche in Sardegna. Questo grazie all'impegno di alcune persone che credono nella buona musica e fanno il possibile per diffonderla, ciò nonostante le diverse difficoltà. Da segnalare che anche per questo nuovo viaggio viene confermata la collaborazione e il supporto dell'agenzia e promotor musicale Bass Station, una delle più importanti realtà sarde e una delle più attive a livello nazionale. Il nuovo progetto grafico vede come protagonista Alghero, ma un Alghero diversa, sempre bella ma decadente e sfuggente. La promozione, dai visual ai flyer, è realizzata da Maus Arti Grafiche grazie al lavoro di Luca Ciabatti e Gianfranco Fois, mentre le immagini sono di Roberto Lampis e William Cabula. Le idee e il coordinamento artistico sono di Stefano Idili per l'associazione Primigenia. L'Istituto Comprensivo numero 2 di Alghero, con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune, dell'Obra Cultural dell'Alghè e dell'Escora dell'Algares, per domani, sabato 15 dicembre, alle ore 18 presso l'auditorium della Scuola Media di Via Malta propone un recital su Pasqualscanu, dal titolo Tenia l'Alghe al Corr e la Pultava pel Mon. E continua su Catalan TV il programma Musica Senza Filo. Da questa settimana spazio al gruppo sassarese Lux Band, molto conosciuta a livello regionale e anche nazionale, che ha recentemente firmato un contratto discografico con l'etichetta napoletana guidata da Paolo Messese. Il loro genere, a metà fra il cantautorato e il rock indipendente italiano di Marchio, anni 90, raccoglie da sempre molti consensi. Format ideato dal direttore Stefano Idile, realizzato in collaborazione con Davide Rude e Riccardo Busdraghi, Musica Senza Filo verrà replicato da oggi per i prossimi giorni, nei vari orari della giornata e in particolare nelle ore notturne. E dallo spettacolo allo sport parliamo di basket e dell'importante incontro che attende la Mercedes, domani alle 19, al Palacorbia, per la dodicesima giornata di campionato, le bianco-adurre di Cocecao affronteranno la capolista umana Reier Venezia Mestre. La formazione algherese è intenzionata a continuare la serie positiva di risultati e si trova adesso al sesto posto. Il campionato di Serie A2 femminile è giunto alla dodicesima giornata. La Mercedes Basquette Alguero, reduce dalla vittoria sul Val Madrera, si prepara ad ospitare domani la capolista del girone, l'umana Reier Venezia Mestre. Una partita importante per le ragazze di Cocecao, che si misureranno con la più forte, stando alla classifica, delle formazioni della categoria. Le bianco-azzurre, dopo la vittoria per 54-63 sul parchè della C-Logistics System Starlight Val Madrera, sono risalite solitarie al sesto posto ed ora cercano continuità. Ma non sarà facile, visto che ad Alguero arrivano, come detto, le veneziane, reduce dal 72-49 casalingo al palasport Giuseppe Taliercio, sulla Delser Club Udine e fin qui protagoniste di 10 vittorie su 11 gare. Il quintetto di Coce, Andrea Liberalotto, vuole i due punti per proseguire il duello in testa alla classifica con la fila San Martino di Lupari. Arbitreranno la sfida i fischietti milanesi Corrado Isimbaldi e Stefano Quaia. Ed ora il rugby, l'amatori Alguero giocherà in anticipo la gara della nona giornata di campionato. La partita contro l'amatori sport Catania è in programma per domani alle 12.30 a Maria Pia. Il 15 allenato da Gert Pins cercherà di ritornare alla vittoria dopo il passo falso di Paese, dove è stata battuta per 28-17. Una formazione scomoda è Catania, ostica, che gioca bene, con grinta e che presenta buoni elementi tra le sue fila. Anche i siciliani sono reduci da una sconfitta, ma di soli tre punti contro la capolista Colorno. Per quanto riguarda la Novaco, se riuscisse a recuperare proprio l'allenatore, il giocatore Pins, alle prese in settimana con una contrattura, e il rientro di Franchin, dovrebbe essere la formazione al completo. Occorrono punti per restare nelle zone alte della classifica, che come più volte detto risulta davvero corta. Intanto, a causa delle piogge degli scorsi giorni, per evitare di rovinare ancora di più il manto erboso del campo di Maria Pia, la società ha dovuto ridurre gli allenamenti delle sue formazioni giovanili. Un problema quello dei terreni di gioco in erba, che soprattutto in questo periodo, ritorna a creare difficoltà. Ed era l'ultima notizia dell'edizione odierna del nostro telegiornale. Vi lascio al meteo, vi ringrazio per averci seguito. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.